Ancora un pareggio a reti inviolate per il Sansepolcro che deve continuare a fare a meno di Esussi, Moretti ma anche Chiaserini. Espulsione anche per Mezzanotti che deve stare lontano dalla panchina occupata da Maurizio Falcinelli. Prima occasione per la formazione bianconera, al settimo minuto la conclusione di Marinelli è fuori abbondantemente così come quella di Di Giuseppe due minuti dopo lontano dallo specchio della porta. Al tredicesimo dagli sviluppi di questo calcio d'angolo la deviazione di testa di Bianchi ma Scarpelli non si lascia sorprendere. Ed ecco l'occasione più netta, il palo pieno colpito su calcio di punizione da Tersini al quindicesimo, l'occasione più ghiotta per il Sansepolcro. Poi c'è la sostituzione al ventesimo infortunio dell'esterno Angiolucci al suo posto in campo Braccalenti. La ripresa si ampli con la seconda sostituzione per il Sansepolcro fuori Zoi dentro Cuccolini. E subito la conclusione abbastanza telefonata, il calcio di punizione che non crea problemi alla portiera dello Spoleto. Ancora Scarpelli sul primo palo attento sulla rovesciata corta, blocca. Ancora una bella azione dello Spoleto, Zuppardo il cross preciso, la girata di testa di Piernera è fuori di poco. Al ventiduesimo ancora sull'angolo di sinistra, protagonista Zuppardo che lancia a capitolo nella profondità con un bel colpo di tacco, il traversone ma la conclusione è abbondantemente fuori. Al venticinquesimo punizione di Falzone, blocca Scarpelli. Al trentatresimo ancora una conclusione, Zuppardo guadagna una palla da una mischia, Scarpelli è sempre pronto. Al trentasettesimo ecco il lancio di Gorini per Braccalenti che prima salta Guastalvino, poi affronta in aria Schettino, finisce a terra, tutti pensano al calcio di rigore, per l'arbitro invece è simulazione. Ed è il terzo cartellino giallo ai danni di giocatori del Sansepolcro in questa partita, oltre all'espulsione di giorni. Credo che sia bene non perdere mai di vista la realtà. Se quest'estate ci avessero detto che avremmo affrontato questo campionato senza Sussi, senza Moretti, senza Casserini, contro una squadra come lo Spoglietto e avessero riportato a casa un punto, credo che avrebbero firmato tutti. Poi è chiaro, questi ragazzi non finiscono mai di stupire, ma io credo che bisogna sempre ricordarsi come siamo partiti, dove siamo partiti e che razza di campionato straordinario stanno facendo. Abbiamo espresso un buon calcio e anche con una buona intensità. Oggi è stata anche una prova importante dove la squadra si è fatta trovare pronta e soprattutto ha giocato bene al pallone. Peccato perché ci avevamo fatto così un po' il gusto di volerla vincere, non ce l'abbiamo fatta, però faccio solamente i complimenti alla mia squadra perché in quest'ultimo periodo si sta muovendo proprio da squadra.